Dopo due anni di stop torna il memory all'Umberto Tersigni con la sua seconda edizione, presentata lunedì 11 aprile presso la sala consigliare del comune di Civitavecchia. Alla presenza del delegato allo sport di Civitavecchia Matteo Iacomelli, della famiglia Tersigni, dei campioni ex Lazio Bruno Giordano e Massimo Piscedda e delle squadre partecipanti, si è alzato il sipario sulla kermess dedicata alla categoria Under 15, che si svolgerà dal 12 al 16 aprile presso gli impianti Vittorio Tamagnini e Flavio Gagliardini. Nel corso della presentazione condotta da Raffaele Minichino si sono alternati gli interventi dei presenti nel ricordo di Umberto, fondatore di Rete Oro e presidente del Civitavecchia dal 2005 al 2010. Queste le interviste raccolte a margine della presentazione. Sebastiano Tersigni, oggi la presentazione del secondo memorial di papà, testimonianze da tutte le parti, sempre positive, un uomo autentico, un uomo d'altri tempi Umberto. Questa è la cosa che mi fa più piacere, appunto avere queste testimonianze da parte di tutti, evidentemente come noi eravamo convinti, ma se queste sono le testimonianze e così era, è stata una persona che ha dato molto sia a questa piazza, sia a noi in famiglia, quindi questo non mi può fare che piacere. Anche e soprattutto ripartire questo torneo dopo che abbiamo partito col piede migliore, poi con la pandemia abbiamo dovuto fermarci. Siamo molto contenti di essere qua e fare questa seconda edizione. Ovviamente come lui avrebbe voluto, Rete Oro garantirà la massima copertura di tutta la manifestazione, soprattutto poi per la finale, la grande festa. Sì, saranno i nostri operatori, i giornalisti presenti su tutti i campi, quest'anno con qualche più difficoltà essendo le partite in contemporanea su due campi diversi, però la finale sarà trasmessa in diretta su tutte le piattaforme social e domenica alle 18 andrà anche su Rete Oro. E questo bel trofeo proprio voluto da tutta la famiglia, da te, Daniele, Emanuela, da mamma, una bellissima coppa proprio per celebrare Umberto. Dopo due anni siamo stati fermi e abbiamo voluto fare le cose in grande. Abbiamo scelto la coppa personalmente io e mia sorella, ci è piaciuta molto e spero che la possa alzare il migliore. È un evento sportivo molto prestigioso, sono contento che si è scelto sempre di continuare a Civitecchia, nel ricordo di un grande personaggio che ha dato così tanto allo sport in Civitecchiese. Sarà un grande evento sportivo che segna anche una ripartenza perché sappiamo benissimo che non abbiamo potuto fare granché in questi due anni come da tutte le parti. Quindi si riparta alla grande con un grande torneo giovanile all'insegna del calcio e all'insegna della memoria. Questa è una Kermess veramente importante che noi siamo lieti, felici ed onorati di ospitare sul nostro impianto e su quello del dobro ferroviario. Crediamo e speriamo che deve essere sempre e solo un gioco, che sia un torneo di ripartenza e ci sono società veramente blasonate. Noi ad esempio come Civitecchia stiamo cercando di ricostruire piano piano per arrivare a quelle società come Nova D'Ortrette Est e come Ostia Mare che stanno facendo bene da tanti anni e quindi speriamo che sia la festa dello sport e la festa delle giocate individuali e di squadra. Un torneo dedicato ad Umberto Tersigni, un grande presidente del Civitavecchia, un grande uomo, un uomo di grandi valori che ha fatto tantissimo per la città. Non solo nello sport. Assolutamente, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo da mia giovane età o comunque sia di conoscerlo personalmente. Frequentavo lo stadio da tifoso quando lui era presidente e sicuramente ha scritto pagine importanti per il Civitavecchia Calcio. Spero di emularlo per ottenere la Serie D. Le stagioni bellissime con Umberto Tersigni presidente, il ricordo più bello che porta con sé? Sono tanti perché era una continua festa, questo devo dirlo. E poi il fattore sempre pieno era un'immagine straordinaria che conserva ancora negli occhi. Per me è importantissima. Io a Cerveti ho portato il Cerveti in Serie C, poi abbiamo fatto la Serie C. Ho visto tante volte lo stadio, ma quell'immagine del fattore la conserva ancora negli occhi. E fu l'acquisto di Baldieri, un momento che il presidente mi diede quasi una delega a trattare. E trattammo perché c'era il prezzo un po' insomma, non era facile Baldieri. Mentre parlavamo per l'ultimo colloquio con Baldieri l'avevo quasi convinto perché eravamo venuti insieme con la macchina da Cervetri. E Giacomini era solo in tribuna, mi fece un segno come io e disse così, solo all'assenso. E noi eravamo di spalle. Passano un quarto d'ora, mi giro, vedo Giacomini, lo stadio, la tribuna piena? E io dico sì e la tribuna che esplode. Quindi il presidente la sera mi telefonò e disse grazie a lei che mi dà l'opportunità. Grazie a me per aver portato il giocatore. Grazie a tutti.